Buonasera, eccoci qua di nuovo, quest'anno farà molto caldo, infatti poco prima si moriva dal caldo, è venuto a rinfrescare, però già il tempo si è riaperto benissimo, così scendiamo più con il fresco e speriamo che il pellegrinaggio aiuti a tutti i pellegrini che in cammino, un buon pellegrinaggio, va tutto bene insomma. Speriamo che tutti quanti collaborino come hanno fatto sempre perché noi ce la mettiamo tutta del comitato, Midio in primis che partecipa a tutto, offre serate e quant'altro. Il pellegrinaggio di Cannete è una storia, noi cercheremo di portarlo avanti il più possibile anche in futuro, insegnando ai nostri figli, ai nipoti e quant'altro di portare avanti questa nostra tradizione che è Piedimondo San Germano, sono anni e anni, tantissimi anni. Speriamo bene della storia di Cannete, speriamo bene e quest'anno anche siamo qua, con la speranza di andare avanti sempre così. Spero che aiuti tutti, anche chi non può andare per tanti motivi e che porta tanta pace e senerità. La Madonna di Cannete che aiuta tutte le famiglie. Evviva Maria. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.